Sì, sennò se mi firmo... Ok, Adam, è venuto? Sì, sono felice con il risultato e con la performance. È stato un gioco molto difficile. Sono molto organizzati nella fase di defensa. Ci sono giocati molto bene. Quindi nella prima parte la situazione è stata difficile. Potremmo riuscire il gioco a un'altra velocità. E potremmo riuscire più movimenti senza il gioco. Ma in questo tipo di gioco penso che, normalmente, puoi vincere nei ultimi 20-25 minuti. Quindi era sempre molto fiducio che questo fosse il gioco? Sì, durante il gioco, sì. Sì, grazie. Il gioco è valutato in direzione della situazione. È molto importante la situazione per il gioco. in that moment was better but only for this I think it depends on the situation Alvaro is improving maybe Alvaro need more space but I am lucky because in this situation Giroud is very useful yes at the moment I'm very happy with my players because they are doing very well very well during the week very well in matches but I I'm really very happy with the 12 points in four matches but I always think that we can do more we can we can improve especially the performance of course but I need we can improve I think that now for us is better to think at the net the next match because the gap at the beginning was 30 points and so I think that it's very difficult to to cover this gap in only one season I am very happy with the four matches but I think only starting from now to the next match and no to the end of the season so Alonso I think at the moment in this position like left left back is maybe the best in Europe physical physical qualities at top level I think he's doing very well in the offensive phase but I also think that you can improve in the defensive phase and so if we need to improve in the defensive phase I think is he could be the best the best the left the left back in the world okay thank you very much